In prima fila stasera. Siamo dalle 11 di stamattina, veniamo dalla provincia di Bari. Per vedere le vibrazioni. Per vedere le vibrazioni perché vibriamo anche noi. Ragazze da dove arrivate? Da Battivaia. Ci piacciono molto le loro canzoni, le ascoltiamo sempre. Allora valeva la pena di venire atteggiando? Assolutamente. Questa sera ci dobbiamo assorbire praticamente tutte le vibrazioni di questi cantanti proprio al massimo. Sono arrivati da tutta la provincia salernitana, ma anche da Puglia, Basilicata e Calabria. Una folla festante ha gioiosamente invasto Teggiano nel fine settimana dedicato alla 25esima edizione di Teggiano Jazz. Oltre 3.000 le presenze nella serata di sabato nella quale, come promesso, le vibrazioni hanno infiammato con la loro musica la gremita Piazza San Cono. Finalmente serverebbe veramente un ritorno alla normalità. Uno spettacolo nello spettacolo che ha esaltato ancora di più l'applauditissima band milanese, che non si è risparmiata offrendo una performance entusiasmante per circa due ore. Questo maledetto virus ci ha cambiato la nostra vita quotidiana. Vedere la piazza riempita fa un effetto diverso. Questo è un progetto che l'abbiamo recuperato. Fu finanziato allora quando il consigliere regionale era assessore, dove lo ringrazio ora per allora, di averci dato questa possibilità. Questo è un modo per far partire tutta quella che è l'economia, diciamo tutto quell'intotto turistico che insomma si era bloccato, si era fermato. Abbiamo attraversato un momento molto difficile, due anni complessi, e questo spero che sia l'inizio di una nuova fase. È davvero bello vedere la piazza con tanta gente, è un modo anche per visitare questa splendida città museo. Allora Mario, tu vibri o non vibri? Certo che vibro, faccio vibrare il mio corpo e anche l'aria. A me questo pezzo si porta i chiari. Sì, sì, lo tagliamo. Mamma, no, tu hai. Loro fecero un concerto a Melpi, era il momento che si sciogliesi, dovevano sciogliere il gruppo, e dopo dieci anni sono di nuovo qua. Siamo venuti molto in anticipo perché li stiamo aspettando, spero arrivino presto, sono le sette e mezza. Il concerto dovrebbe iniziare alle nove. Eh, vabbè, noi li aspettiamo un'altra ora e mezza. Però la prima fila non te la toglie nessuno. Siamo qua ad aspettarli. C'è anche un signore che viene da? Polla. Da Polla. Però non sono pollese, ho sposato una campana e sono qua in giro per questo, per amore. Ma lei è qui per il concerto? Sì, per il concerto, noi siamo i concertisti dell'estate. Viva Tejano Jazz. 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 Grazie! Grazie a tutti!